Gentili telespettatori, buona giornata. Caos in Italia con l'aumento dei contagi. Contagi che poi hanno la conseguenza di mettere persone in quarantena. Persone in quarantena su 78.000-100.000 contagi al giorno. Ci sono dentro autisti di autobus, tram, piloti di aereo, conduttori dei treni. E così saltano solo in Lombardia 100 treni. 100 treni al giorno di Trenord e ATM a livello di guardia. Anche gli aerei. Sono stati cancellati quasi 3.000 aerei solo in Italia. Per il fatto che manca il personale. I piloti, le hostess e il personale di terra sono a casa in quarantena. Milano e Lombardia hanno il record dei contagi. Quindi qui si concentrano i disagi maggiori. Rallenta il trasporto pubblico. E poi ci sono anche Novax assenti per malattia. Non solo quelli in quarantena, ma i Novax che si danno malati. Nuovo hub per i tamponi alla Fiera di Rò. Corsa al vaccino. Sono 3,2 i milioni di Lombardi già con tre dosi. Quindi turni rivisti. Corse cancellate. Assenze per malattie, tra virgolette, da parte di Novax. E ferie, ad esempio assenze coperte al rientro delle ferie da chi non parte per le vacanze. Gente in quarantena. Rapida diffusione del virus. E il trasporto pubblico rallenta a tratti. Si blocca. E se ora la situazione è ancora gestibile, perché ci sono le festività natalizie, da gennaio il futuro è plumbeo, fosco, gotico. Ad esempio Trenord programma 1800 corse quotidiane in tutta la Lombardia. Sono 350 in meno rispetto al periodo non di festività, quando c'è tutto aperto, i lavori, le aziende. Al taglio già studiato si aggiunge la cancellazione di un centinaio di treni. Martedì 28 dicembre ieri sono stati sospesi, soppressi, 88 treni. 88 eh! Il motivo, dicono dall'azienda, sono gli isolamenti, le quarantene per covid, macchinisti, capi treno, che si sommano alle medie di 50 assenze, fanno capire, per malattia. Eh? 50 malati! Su un totale di 1360 dipendenti previsti in turno. Va poi calcolata la mancanza di una trentina di lavoratori sprovvisti di Green Pass. Quindi tra chi si dà malato, eh? Siamo capiti? Tra quelli che dicono, eh non c'ho il Green Pass, che facciamo? Eh? Eh? No, perché la gente va dall'azienda e gli dice, non ce l'ho. E quindi? Che facciamo? Che vuoi fa? Eh? Che famo? Da qui la continua necessità di rivedere e riorganizzare le squadre in modo da incidere il meno possibile sul servizio. Si taglia lungo le tratte coperte da più corse, dice, in quella tratta c'è un treno alle sette e mezza e un treno alle otto, togli quello alle sette e mezza e lascia solo quello alle otto. Che già, se c'erano più treni, significa che è un momento di sovraccarico, che già i treni sono pieni. Figuratevi, se sopprimono alcune corse, il treno diventa super fantoziano, no? Vi ricordate i treni fantoziani, no? Nei fantozzi col biglietto in bocca, appeso sopra, no? Ecco, una roba del genere. L'obiettivo è dare ai passeggeri la possibilità di arrivare comunque a destinazione, seppur in ritardo. Il consiglio dato dall'azienda è quello di verificare in anticipo sulle applicazioni e i siti internet quali treni correranno, quali verranno fermati, cioè soppressi. Anche l'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, deve fare i conti con l'effetto Covid. Adesso le assenze degli autisti le compensano in qualche modo con il rientro dalle ferie di altri che erano in vacanza. Più semplice è coordinare il via-vai delle metropolitane, meno quello di autobus e tram. Se i contagi continuano a rimanere alti, ovvio, sarà difficile assicurare ai viaggiettori il 100% delle corse dal 10 di gennaio, quando si tornerà all'orario standard. Reggono il contraccolpo altri servizi pubblici. Le poste garantiscono il recapito della corrispondenza. Da AMSA spiegano di avere un livello di presente tali da riuscire ad assicurare il ritiro dell'immondizia e la pulizia della città. Anche in comune gli orari di apertura dei vari sportelli vengono garantiti. Non parliamo poi del caos tamponi che abbiamo visto nel video precedente a questo, dove i tamponi sono finiti, i reagenti sono finiti, i risultati arrivano dopo giorni, addirittura anche dopo 5-7 giorni. Quindi chi ha bisogno del tampone per andare a lavorare non può più andare a lavorare. Perché se io devo andare lunedì e faccio il tampone domenica e mi dicono te lo do il lunedì. Ah, lunedì prossimo però, l'altro lunedì, fra due lunedì. Ma io come vado a lavorare? Mi fate uno scritto, ma quale è scritto? Non ti posso fare uno scritto, devi vedere l'esito. Quando vai al lavoro ti presenti e dici, eh, ho fatto il tampone. E quindi? Eh, me lo danno fra sette giorni. Come? Allora non puoi entrare in azienda. Eh, ma che faccio? Eh, non entri, ti sospendo dallo stipendio. Eh, ma non è colpa mia, è colpa dello Stato. Eh, fai quello che vuoi, rivolgiti allo Stato, fate quello che volete, o ti vaccini, o ti rivolgi allo Stato, mettetevi d'accordo voi con lo Stato, ma tu in azienda non puoi entrare. E ti sospendo dal lavoro. Guarda, non ci posso fare niente, queste sono le regole. Questo è l'effetto che ci sarà immediato adesso, quando la maggior parte degli italiani rientreranno al lavoro e visto che ci sono milioni di lavoratori che hanno bisogno del tampone per andare a lavorare, a meno che oggi il governo non decida che per andare al lavoro c'è bisogno il vaccino. Sul tavolo, allo studio, c'è proprio questo. Lo chiamano il Green Pass rafforzato per andare al lavoro. Praticamente per accedere ai posti di lavoro devi essere vaccinato o guarito. non c'è più il tampone, cioè il Green Pass basico, quello da tampone, praticamente viene cancellato. Verrà, verrebbe, dovrebbe. Non sappiamo bene se utilizzare il condizionale, eccetera, eccetera, perché oggi il governo prenderà delle decisioni alla luce dei contagi strabilianti da 78.000 solo di ieri in tutta Italia. Grazie per avermi ascoltato, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti.